In tutto il mondo si fumano ogni giorno circa 15 miliardi di sigarette e il 20% della popolazione, vale a dire circa un miliardo di persone, consuma regolarmente tabacco. Il mercato vale circa 764,5 miliardi di dollari ed è controllato da 7 mega società. In questo video parleremo del business del tabacco e del ruolo del marketing in questo settore. Oltre ai numeri che riguardano l'industria del mercato del tabacco, però è necessario mettere il punto su altri numeri che riguardano questa industria. Sono infatti 7 milioni di persone l'anno che, a causa diretta o indiretta del tabacco, perdono la vita ogni anno ed è la seconda causa di morte dopo l'ipertensione. Certo, dei numeri così grossi sembrano talmente distanti da far perdere l'orientamento, quindi ti riporto una piccola parte di un documento stilato dal Ministero della Salute. 20 sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane che inizia a fumare a 25 anni, ovvero per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita. Ripeto, per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita. I numeri hanno sempre il potere di confondere oppure di rendere più specifiche le cose. E oltre ai danni alla salute delle persone si hanno anche i danni ambientali delle sigarette, cosa che si tende a non tenere molto in considerazione. Ma soltanto le piantagioni di tabacco occupano 4,5 milioni di ettare di terreno coltivabile, ma il danno maggiore lo si ha dai rifiuti delle sigarette, dai mozziconi lasciati in terra. Solo in Italia, e ripeto, solo in Italia, che è uno stato molto piccolo rispetto a tutto il mondo, vengono prodotti 72 miliardi di rifiuti di mozziconi di sigarette. E tutto questo abbandonati in strade, spiaggia, in mare, senza alcun tipo di precauzione. Ti leggo nello specifico quello che rilasciamo nell'ambiente con i mozziconi. Più di 20 tonnellate di gas tossici, 1800 tonnellate di composti organici volatili, oltre 1400 tonnellate di catrame condensato, 1872 berquel di polonio 210 e 12.240 tonnellate di acetato di cellulosa. Ma se fumare provoca questi danni alla salute e questi danni ambientali, perché le persone continuano nonostante tutto a fumare? Come al solito, partiamo dalla storia. I sacerdoti Maya e Azechi già un millennio fa erano soliti aspirare il fumo, ed era una sorta di rito religioso. Serviva infatti per capire il volere degli dèi. Ma il primo europeo a cadere nella trappola del tabacco fu un certo Rodrigo de Gérez, che importò il tabacco come uso costumo in Spagna. E questo nell'epoca di Colombo, nell'epoca coloniale. Ma tuttavia fu un certo Jean Nicotte, ambasciatore di Francia in Portogallo, a donare al re di Francia le piante e i semi di tabacco proveniente dall'America. Ai tempi la medicina era per lo più naturale, quindi ci si curava con erbe o piante officinali. E per far prendere piede a un nuovo tipo di pianta, c'era il rudimentale sistema di marketing di chiamare questo tipo di pianta una pianta miracolosa, ovvero che desse dei benefici alla salute. Con le piante di tabacco, infatti, si diceva che si poteva curare il mal di testa, l'insonnia, eccetera eccetera. E a queste piante fu dato appunto il nome di erbe nicotina, che erano acquistabili nelle farmacie dell'epoca. Fu invece il cardinale Prospero di Santa Croce a importare queste piante di tabacco proprio in Italia e ci si arricchi anche questo signore della chiesa. L'uso di quel periodo prevedeva che il tabacco venisse o masticato o sniffato oppure fumato nella pipa. Fu proprio nel 1832 che i soldati durante la guerra cominciarono a infilare il tabacco nei rimasugli delle cartucce delle munizioni che erano fatti di carta e così nacquero le prime sigarette. Il contesto storico ci suggerisce che, essendo nel periodo tra le due guerre e quindi l'industria cominciava a crescere e anche la pubblicità con il cinema e quindi tutto il sistema di propaganda che c'era intorno, ha fatto sì che l'uso e la produzione del tabacco cominciassero a espandersi in massa. Quindi si cominciò a produrre industrialmente le sigarette che prima venivano fatte a mano e si cominciò, grazie al cinema, a fare propaganda al tabacco. Però fino al 1920 non si aveva idea dei danni collegabili al cancro e alle malattie cardiovascolari che portavano le sigarette. Difatti in quel periodo cominciavano le prime campagne di sensibilizzazione alla nicotina, cercando di limitarne la pubblicità e infilandoci ingenti tasse sul prodotto, che poi tanti hanno molto da dire sulla tassazione della nicotina, questo è un altro discorso. Ovvero perché lo Stato ci deve andare a guadagnare, ma non è tema di questo video. Tuttavia queste operazioni non hanno assolutamente infierito minimamente nel business del tabacco, infatti le big del tabacco hanno sempre sfruttato metodi non convenzionali per pubblicizzarsi. Proprio per far capire che la nicotina non facesse male non creava nessun tipo di danno al corpo, hanno cominciato a usare come testimonial dei medici che affiancavano alla pubblicità delle sigarette. Avatti a guardare il mio video dove spiego bene come funziona il principio di autorità. Comunque per farla breve basta inserire l'immagine di un medico a fianco a un pacchetto di sigarette che le persone senza dire niente associano il fatto che un rappresentante della salute è di fianco a un pacchetto di sigarette, queste non fanno male. È molto semplice. Ovviamente questo non ha funzionato a lungo, infatti la sanità pubblica non ha potuto più permettersi nemmeno quella privata di pubblicizzare le sigarette che è chiaro e scontato che facciano male. E quindi il marketing delle sigarette ha puntato più al fatto che fumare facesse figo. Quindi anche se fa male non importa perché fumare è cool e le persone se ne fregano perché pur di essere belle a parire accettate dalla società vanno anche contro la loro stessa salute. Una cosa un po' strana ma che comunque accomuna tutte le persone e tutte le società. Famosissimo è l'uomo della Marlboro, Wayne McLaren, che pubblicizzava sempre questa sua immagine da duro con la sigaretta in bocca nel reclam della pubblicità della Marlboro. Sfortunatamente anche il buon Wayne McLaren, molto duro, morì di cancro ai polmoni nel 1992. Quindi ahimè, la sua pubblicità non era molto veritiera. Però comunque con il fatto che fumare fosse una cosa da veri uomini duri e col messaggio contrario che non fumare è una cosa da femminucce, tutte le persone cercavano di fumare per darsi un tono, anche se fumare non piace, anzi addirittura noi possiamo dire che a nessuno piace iniziare a fumare, lo si fa solo per darsi un tono, questa è una cosa normale. Io stesso sono stato un fumatore, non volevo fumare all'inizio, lo facevo solo perché volevo fare il figo con i miei amici e essere accettato. Poi è stato molto faticoso smettere, però comunque ho iniziato solo per essere accettato e questo l'hanno fatto tutti perché fumare all'epoca era da veri uomini. E questo non colpiva soltanto gli uomini ma anche le donne perché nel periodo di piena emancipazione il marketing del tabacco ha puntato duro a far capire alle donne che per essere come gli uomini dovevano fumare anche loro e quindi creando delle marche di sigarette solo per donne. E anche il cinema ha avuto il suo ruolo perché indirettamente sono stati molto famosi i placement delle sigarette nei film. Tutti i personaggi famosi nel film fumavano all'epoca, pensaci bene, oppure mostravano proprio le sigarette, chiari placement che facevano le case del tabacco. Ed è chiaro che le persone famose hanno un'influenza nelle persone, nella moda, nell'estetica e persino nei vizi come in questo caso nel fumare. L'uomo duro era rappresentato con la sigaretta e la donna seducente era rappresentata con la sigaretta in bocca. Questi sono solo degli stimoli per condizionare le persone a iniziare a fumare. E in tutto questo i ragazzini, per sembrare grandi e rivelarsi, giocano a fumare per essere accettati dal loro gruppo di coetanei e quindi anche loro poi iniziano a fumare e vanno incontro alla suefazione della nicotina. Il ruolo del marketing in tutto questo è molto semplice perché gli basta la miccia iniziale, basta che le persone inizino a fumare perché poi tutto il resto lo fa la suefazione. Infatti la nicotina è la droga più potente al mondo, la droga delle droghe, perché droghe come l'eroina che probabilmente ti steccano nel giro di qualche mese, la nicotina è in grado di renderti schiavo per anni prima di ucciderti. Insomma, è la droga delle droghe. E anche perché la nicotina è in grado di annebbiare il giudizio consapevole delle persone che ne fanno uso, vale a dire che le persone che fumano sanno benissimo che fa male, ma cercano di cancellare dalla loro memoria quel tipo di informazione, quindi non ci pensano perché hanno paura dell'astinenza. Sanno che smettere di fumare può essere una impresa enorme, molto faticosa, forse impossibile per alcune persone. Pur di non pensare alle sofferenze dovute all'astinenza, le persone continuano a fumare pur sapendo che faccia male, ma facendo finta di non sapere quali saranno le conseguenze. Ed è sì, proprio un comportamento da tossici, da tossicodipendenti. Difatti la nicotina è una tossina, non dimentichiamocelo. Fumare fa morire, ma le persone continuano a farlo. Fortunatamente però questo trend è in calo. Soprattutto nei paesi sviluppati diciamo che le industrie del tabacco cominciano ad avere seri problemi di fatturato. Questo però non vale per i paesi in via di sviluppo, che comunque il trend è in continua ascesa. Possiamo infatti dire che è una questione di cultura. Fumare è un vizio socialmente accettato. Soltanto nel momento in cui la società smetterà di accettare questo vizio si riuscirà a limitarne i danni. Certo sarà quasi impossibile debellare del tutto le sigarette, ma succederà come in tante droghe, ovvero che ci saranno dei piccoli ghetti, gli stessi ghetti che si formano fuori dai ristoranti di persone che vanno a fumare. Il ruolo del marketing nel tabacco gioca un ruolo realmente subdolo, ovvero alle industrie del tabacco basta che tu inizi a fumare e basta che fumare rimanga una cosa socialmente accettata, un diritto delle persone. Tutto il resto lo fa la dipendenza. In questo video abbiamo visto che le sigarette non portano solo danni alla salute, ma anche danni ambientali e che il marketing delle sigarette spinge affinché tu inizi a fumare e che questo rimanga un vizio socialmente accettato, anche se porta alla morte. Anche in questo video ci tengo a precisare che il marketing è sterile e laico. Sono le persone che hanno dei desideri di mercato a creare l'offerta. Infatti tutto quello che vedi, che fa male, che distrugge, è stato creato dagli uomini. Il marketing è solo una conseguenza perché quando c'è una richiesta di mercato sicuramente dietro si forma un'offerta e in un modo o nell'altro arriva, non è possibile fermarlo. Sono sempre richieste delle persone e vengono accontentate in modi che possono fare bene o che possono fare male. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete è tutto, mi raccomando monetizza consapevolmente.